Il primo ministro ungherese Viktor Orban, presidente di turno dell'Unione Europea fino a dicembre 2024, è arrivato oggi a Mosca, dove è incontrato il presidente russo Vladimir Putin. La visita di Mosca era intendersi come una missione di pace, ha assicurato Orban, che lo scorso 2 luglio aveva incontrato Zelensky. Putin e Orban hanno dichiarato che le conversazioni tra i due leader sono state utili e intense e tenute in un tono franco. Questa iniziativa ha mandato su tutte le furie i witi di Bruxelles, che si sono affrettati a negare la legittimità di Orban come rappresentante dell'Unione Europea. La loro reazione isterica è logica e comprensibile dal momento che l'incontro di oggi demolisce la falsa idea che Putin non voglia parlare di negoziati di pace. E invece dimostra che gli unici che non vogliono la pace, ma solo più carri armati, più sanzioni, più spese militari e più morti, sono le corrotte istituzioni euroatlantiste. Orban sta facendo quello che l'Unione Europea avrebbe dovuto fare fin dall'inizio del conflitto in Ucraina e che sicuramente è quello che vuole una maggioranza di cittadini europei, cioè agire come mediatore alla ricerca di una soluzione di pace.